ciao a tutti ragazzi eccoci qua per questo nuovo video oggi è arrivata una cosa importante una bella busta direttamente dalla federmoto e vediamo un po cosa contiene sarà una novità sul vespa quindi vediamo 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 wow ragazzi wow wow quindi gentile tesserato sono lieto di comunicarti il buon esito della pratica di iscrizione della tua moto al registro storico fmi da oggi entri a far parte della più grande famiglia di appassionati di moto storiche e potrai esufforire di tutti i vantaggi che l'iscrizione nel registro storico di tesseramento comportano ti ringraziamo dalla tua passione della fedeltà alla nostra federazione ti invio i miei più cordiali saluti il presidente grazie e qua wow 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 qua c'è il certificato c'è il certificato di rilevanza storica tutti i dati tecnici tutte le cose guardate qua c'è tutta bella federazione motociclistica italiana registro storico e qua c'è la tessera con la foto la foto non so se si vede c'è la tessera con la foto in più in più dovrebbe arrivarmi anche la targhetta metallica appena mi arriva ve la farò vedere quindi niente ragazzi ce l'abbiamo fatta l'abbiamo iscritto sono arrivate tutte le documentazioni manca appunto quello che vi ho detto prima la targhetta metallica perché me l'hanno assegnata quindi quello li hanno tempo 60 giorni per inviarla e niente ragazzi molto molto soddisfatto comunque un bel documento qua c'è la tessera legato a cerchi di rilevanza storica e collezionistica è arrivato un paio di settimane dopo la diciamo l'invio della richiesta è arrivato tutto 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 il lambaradà quindi grazie ancora grazie ancora la federmoto grazie a voi che mi avete seguito in questi video e niente ragazzi presto usciranno nuovi video o nuove cose siamo rientrati in zona arancione purtroppo quindi inizierò a fare ancora un po' di live il sabato sera spero di avervi presenti presenti in tanti per queste live che spero che durino poco e spero che le live queste live durino poco e di poter finalmente avere la libertà di uscire anche magari dalla regione di uscire un po' a fare i nostri bei giretti in moto in più vi ricordo ragazzi di iscrivervi al canale visto che il 90 per cento di chi guarda i miei video non è iscritto vi ricordo iscrivetevi che così mi date la possibilità di crescere e di darvi comunque un qualcosa in più inoltre iscrivetevi anche a tutti i miei social mi trovate come il motociclista solitario sia su facebook sia su instagram vi ricordo anche di iscrivervi al canale telegram delle offerte offerte per motociclisti se vi interessa qualcosa su un biglietto che passate del mio link e acquistate qualcosa così da supportare il canale senza spendere nulla in più che altro dirvi ragazzi inoltre vi ricordo anche che per gli appassionati delle moto tendate c'è anche un gruppo facebook che ho creato in questo momento non è attivo visto anche la situazione però spero che con l'andare del tempo possa essere sempre più attivo e avere sempre più membri questo gruppo si chiama moto tendate italia e li posteremo tutti gli eventi che usciranno sia quelli che magari spero di organizzare io sia quelli che magari organizzeranno altri o comunque se anche qualcuno di voi conosce degli eventi particolari li può linkare liberamente i post sono liberi quindi iscrivetevi anche a questo gruppo un gruppo che è nato per appunto formare una community che a cui piace la moto tendata a cui piace il moto viaggio e cercare magari di espandere un po' le nostre conoscenze e confrontarci anche a vicenda quindi iscrivetevi anche a questo gruppo sarò ben lieto di accettarvi e sarò ben lieto di comunque parlare con voi per questo video diciamo un po' un po' veloce è tutto ci vediamo al prossimo video e ci vediamo magari anche in live molto presto grazie mille e ciao 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 ciao